cazzo sapevo che devo passare di là vaffanculo aspetta che vado giù ma perchè siete tutti qua scusami allora una parte sta qua una parte se ne va dai via ferro di basso andiamo una parte andiamo con me è inutile state qua tutti per dare una pianta taglia il vito ce l'ha scelga andiamo andiamo avanti vai johnny save lui andiamo avanti che loro seggano con la pianta lì vai andiamo avanti guardalo guarda il falco è là su quella pianta là lì in mezzo a quelle piante lì c'è sul falco c'è sul falchetto vale che adesso quando passa va via stai attento guarda guarda maledetto ecco lì c'è sul falchetto c'è sul falchetto due erano maschio e femmina c'erano qua tutte e due sono andati in là adesso siamo andati in là andiamo qua andiamo qua aspettiamo gli altri un secondo o vengono su di qua o vengono su di là o vengono su di qua o vengono su di là hai visto? hai visto? eh? che parti dentro dentro esci di là come fa la wolfina due poiane l'hai visto maschio e femmina come fa la wolfina